Dopo 5 risultati utili consecutivi il Borgosesia cade in casa contro il Bra. Il Bra si porta in vantaggio al 32esimo quando Alfiero stacca bene sulla punizione di Cappellupo in sacca. La risposta granata arriva al 38esimo quando sua azione d'angolo a incornare è homo regbe che riporta così la situazione in parità. La svolta arriva nella ripresa quando Alfiero si conquista un calcio di rigore per un contrasto con Carrara. Dal dischetto si presenta lo stesso Alfiero che non sbaglia e regala ai suoi la vittoria.